Io voglio raccontare una casa riguardo a questo film, io non conoscevo ovviamente Paolo e Vittorio quando hanno fatto questo film ma spesso ho chiesto e ho sentito, Paolo lo raccontava volentieri, voglio raccontare questa cosa in particolare perché Paolo era uno che trasformava in cinema tutto quello che guardava, lui camminava, parlava con le persone e Paolo aveva proprio l'inquadratura nella mente, lui non vedeva mai la realtà per quello che era ma per quello che poteva diventare e la scena, una delle scene più famose di questo film è la morte di Riondino con tutte le frecce, ma racconta da Paolo che lui non sapeva come farla quella scena perché non volevano essere troppo, come dire, facili da rappresentare la morte di un uomo e poi Hermano, il figlio di Paolo, aveva un libro che si chiamava La Scala d'Oro e un giorno guardando La Scala d'Oro ho visto Ettore trafitto dalle lanci, esattamente l'immagine di profilo che c'è in questo film ed è un grande regista quello che coglie un'immagine in un libro, in un giornale della famiglia di cinema nel modo più alto possibile e questo voglio dire Donatella, presentando ti ho detto appunto che stavi lavorando che Paolo Ottaviani è morto improvvisamente stavate lavorando insieme a un nuovo film ce ne parli? del film, assolutamente Paolo non era un uomo che doveva morire così presto era un uomo che aveva ancora sogni, volontà, capacità stavo preparando questo film, l'aveva scritto con passione lo rileggeva è un film scritto anche questo scritto per immagini mi hanno chiesto se volevo affidare questa sceneggiatura ad un altro regista ma io penso che questo non è possibile perché le immagini di questo film sono esattamente le immagini di Paolo le immagini che lui ha pensato era un film sulla morte così come gli hanno raddio è un film sulla morte perché la morte di Vittorio aveva di corpo introdotto questo tema nella loro vita si muore si muore anche quando si è bravi anche quando si ha tante cose da fare si muore anche senza volerlo anche senza prevederlo e gli hanno raddio è l'addio di Paolo al fratello il funerale di Pirandello le disposizioni di Pirandello sono esattamente le stesse disposizioni che ha lasciato Vittorio quando Vittorio è morto non è andato nessuno al funerale quando lui è uscito di casa a via Orte d'Alibert nella stessa viabita Gianfranco Rossi che passava per caso lì davanti è stata l'unica persona a vedere Vittorio uscire di casa neanche Paolo e quindi c'era questa negazione di quello che è il dito della morte tutte queste cose qua e allora lui ha preso la storia di Pirandello che fra l'altro avevano in qualche modo pensato come epilogo di caos e ha detto la faccio è l'addio a mio fratello e l'episodio che viene dopo che la storia di una morte inconsueta è non voluta, è casuale sta lì semplicemente perché lo aveva sceliggendo con Paolo con Vittorio per caso quindi quello è stato il primo film sulla morte questo film qui che si chiamava Il canto delle meduse è un titolo bellissimo che poi ha un significato nella storia racconta tre episodi è diviso in tre parti la prima parte è la storia di due medici che vedono l'arte medica la loro professione in modo completamente diverso ed è tutta presa dai dialoghi di Platone cioè Platone ha scritto un libro sulla medicina e Paolo ha attualizzato questa cosa e uno dei due muore intorno muoiono tante persone poi c'è la vita la vita in consulta dei terrazzini delle persone chiusi in casa durante il Covid tanti frammenti di vita a particolare e l'ultimo episodio è la storia di una donna che sta morendo e chiede alle persone che gli sono chiedere di non seppellirla nella stessa tomba questo è il mio dito il tema anche lì del non rifiutare il soppellimento poi non ci riesco che dentro quella tomba succede di tutto però comunque era un film sulla morte Paolo la morte di Vittoria avrà significato questo non siamo più invulnerabili come capita quanto ci muore qualcuno vicino di colpo o quanto capita di ammalarsi di colpo il sentimento di invulnerabilità che ci ha accompagnato per tutta la vita lo perdiamo Paolo lo aveva perso ma non aveva perso il desiderio di raccontare e la capacità di raccontare grazie questo mi sono riuscita a dirlo Vittoria a un certo punto si è reso conto con la morte di Vittoria Paolo si è reso conto che la morte esisteva ed era vicino a loro e questo ha fatto la differenza di colpo nel suo immaginario la morte ha preso un ruolo importante a partire da l'anno da Dio prima non è stata così Pagno Pagno Grazie.